Eccolo ecco sui zuccheri peci di Avezzano, la casa della mia Mond Bike, vabbè parlo con i zuccheri peci, ecco l'altra parte dei zuccheri peci, è indeciso, e quante barbe avvenne, quante sequenze, ce l'ha fatta, un po' di vento, comunque il traffico non c'era, no, pochissimo, la guerra, la crisi energetica, l'aumento gas, luce, acqua, elettricità, bella, è tutto il bicicletta, ma come questa labbanzina, ecco, quindi una rata s'assorti, e questo, beh, l'intero percorso, girate, e così metto davanti, ma sono più divertenti, ecco un'auto, e questo, magari tutti tutti i nostri spettatori, a questa è una data, ma è un'auto, Grazie a tutti.